Oggetto numero due quindi risponde l'assessore Morroni per conto dell'assessore Melasecche interroga il consigliere Bori risponde l'assessore Morroni per conto dell'assessore Melasecche chiarimenti circa l'affidamento dei servizi di protezione civile alla AEOP, Associazione Europea Operatori di Polizia. Prego consigliere Bori. Grazie Presidente, il tema è l'affidamento dei servizi di protezione civile, noi sappiamo che durante l'emergenza sanitaria molte associazioni hanno prestato i servizi alla pubblica amministrazione agli antilocali. Però da quanto è emerso dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica e poi riportato negli articoli di stampa, un'associazione, l'AEOP, Associazione Europea Operatori di Polizia, durante le attività che le erano state assegnate dalle amministrazioni ha largamente e ripetutamente trasceso i propri compiti. Si è spacciata per veri e propri operatori di polizia, ha acquistato divise e lampeggianti, tesserini e giubbotti antiproiettili per ingannare i cittadini presentandosi come operatori di polizia. Alcuni di loro sono caduti in questa trappola e hanno di fronte a una contestazione, cioè una multa, hanno sollevato delle contravvenzioni e i cittadini hanno pagato. L'associazione si presentava come sezione di polizia giudiziaria, si tingevano guardie zoofile e in realtà erano soltanto una realtà di volontariato, ne potevano fare ciò che hanno fatto almeno da ciò che gli viene contestato dalla procura e dalla stampa. Le indagini si sono chiuse con 17 persone che hanno come ipotesi di reato usurpazione di funzioni, falsità ideologica, truffa aggravata e minacce. In particolare hanno operato nel territorio di Perugia ma in tutta l'Umbria, svolgendo anche controlli finti, controlli stradali oltre che controlli sui malcapitati, le persone malcapitate. Ora, il Comune di Perugia aveva inserito questi soggetti anche nella consulta di protezione civile credo che ad oggi siano stati rimossi o almeno me lo auguro, ma addirittura ci faceva conferenze stampa il Comune di Perugia. Tra le persone indagate c'è il componente della consulta comunale che prendeva anche parte e aveva fatto foto e conferenze stampa con il sindaco e l'assessore competente. La truffa sembra girarsi sulle decine di migliaia di euro. Insomma, tutto questo viene riportato dalla stampa e la Procura lo sta verificando, ma si prefigura una situazione molto grave. Vogliamo capire da parte della Regione, se corrisponde a verità, che la Regione Umbria abbia versato a questa associazione ora indagata e che portava avanti questo tipo di truffa, se la Regione gli ha versato delle risorse, se sì di quale entità e attraverso quale modalità e per quale obiettivo. Cosa ha svolto questa associazione? E se a seguito delle numerose segnalazioni che arrivano dai cittadini a noi, come evidentemente alla Procura e alla stampa, la Regione si sia adoperata per verificare, per svolgere dei controlli rispetto a questa realtà che risulta purtroppo nemmeno opaca, ma chiaramente alla luce del sole una realtà che portava avanti da quello che viene riportato dalla stampa e l'ipotesi di reato della Procura, una truffa a danno della nostra comunità. Grazie. Grazie. Prego, Assessore Morroni. Grazie Vicepresidente, Consigliere Mori, do lettura della risposta predisposta dall'Assessore Melasecchia. L'Associazione Monte Santa Maria Tiberina e Opo Umbria è iscritta nell'elenco regionale dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile, articolo 28 della legge regionale, la numero 8 del 2013, con determina dirigenziale la numero 8968 del 26 novembre del 2013. Un'organizzazione di volontariato per essere inserita nell'elenco regionale deve rispondere ai criteri definiti negli indirizzi operativi per le organizzazioni di volontariato che partecipano al sistema regionale di protezione civile, approvati nella delibera giunta regionale, del numero 1444 del 2011. Ciò premesso, giova comunque a ricordare che il rapporto con la nostra struttura è solamente legato all'attività di protezione civile per le quali la stessa è stata attivata da noi direttamente o da alcune amministrazioni comunali, ad esempio Norcia per il sisma del 2016 o altri comuni per l'emergenza Covid-19. Tutte le altre abilitazioni dichiarate dall'Associazione, come attività di polizia giudiziaria o controlli nei settori della zoofilia, dei rifiuti, maltrattamento animali e stradali, non sono competenza dell'ufficio in questione, pertanto non ne siamo mai stati formalmente a conoscenza perché appunto non rientrati nell'attività di protezione civile. Si ricorda, vista l'occasione, che le organizzazioni di volontariato non vengono attivate dalla struttura regionale in relazione ad accordi economici o convenzioni neurose, ma perché esse stesse rispondono volontariamente a richieste di supporto per specifici eventi, emergenze, inserite dal nostro ufficio nel portale di gestione del volontariato di protezione civile anche su necessità espresse dalle amministrazioni comunali. Pertanto spesso la struttura regionale autorizza un'amministrazione all'utilizzo delle organizzazioni di protezione civile per uno specifico evento ed è poi il singolo comune che seleziona quali volontari impiegare. Nei casi in cui le organizzazioni di volontariato vengano attivate possono usufruire, se previsto preventivamente nel documento di attivazione, dei benefici degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo numero 1 del 2018. L'articolo 39 in particolare prevede per il volontario lavoratore dipendente il rimborso degli emolumenti sostenuti dal datore di lavoro e per quello lavoratore autonomo il rimborso del mancato guadagno giornaliero in base a denuncia dei redditi dell'anno precedente per un importo massimo di 103 euro al giorno. L'articolo 40 invece prevede il rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni per il carburante, eventuali danni ad attrezzature e mezzi associativi, pedaggi autostradali e pasti il tutto giustificato tramite scontrini o scade carburante e fatture pietanzate. L'associazione AEOP ha partecipato con i propri volontari a supporto di eventi emergenziali come il Sisma Centro Italia del 2016 ed il Covid del 2019. Nello specifico per quello che riguarda le attività legate al Covid del 2019, dopo nostra autorizzazione è stata attivata più volte dai comuni di Perugia, Follini e Assisi. Negli ultimi sei anni ha garantito la sua presenza fornendo sostegno alle amministrazioni comunali in diversi eventi a rilevanti impatto locale come manifestazioni sportive di particolare rilievo, se ricorda il Giro d'Italia o la Tereno Adriatica, Euro Chocolate, Nesco Ordigno Bellico presso il Comune di Terni, Marcia della Pace e visita del Papa ad Assisi. In nessuno di questi casi la nostra struttura ha avuto un riscontro negativo formale dagli enti coinvolti rispetto all'attività svolta dall'associazione. Per quanto riguarda i finanziamenti, come tutte le organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco regionale, dopo verifica del possesso dei ripesiti da parte del Servizio di Protezione Civile regionale, come da delibera della Giunta al numero 1.444 poc'anzi richiamata, ha potuto richiedere rimborsi o contributi per il ripristino o potenziamento di mezzi o attrezzature. In particolare, dal 2016 ad oggi, vista la partecipazione e le attività richiamate in precedenza, sono stati erogati i seguenti fondi. Fondi regionali 2021, contributo spesa e assicurazione automezzi, 276,55 Euro, appunto rimborso parziale spesa e assicurazione automezzi, su istanza delle associazioni e segnazione a tutti i richiedenti in base alla disponibilità di bilancio dell'anno. Inoltre, ripristino sisma del 2016, l'ordinanza numero 438 del 2017, dispositivi in duali manutenzione automezzi per un importo di 1.382,72 Euro. Criterio di assignazione, vengono inserite tutte le associazioni in percentuale e alle presenze nel sisma del 2016, questo è il criterio di ripartizione dei fondi. Ed infine, potenziamento post-sisma sisma del 2016, articolo 41,4 di L50 del 2017, 19.570, quale contributo per sostituzione ad un mezzo rottamato post-impiego sisma del 2016, vincolante la presenza, tra i criteri di assegnazione in questo caso, vincolante la presenza sull'emergenza sisma e su richiesta dell'associazione. Quindi l'importo complessivo di queste tre voci dà un totale di 21.229,27. Al momento, l'associazione non è considerata attiva come associazione di protezione civile, in quanto è stata avviata la procedura per la sospensione dell'operatività. Infatti, come da indirizzi operativi della delibera della giunta sempre da 1.444 del 2011, ogni organizzazione di volontariato deve inviare alla nostra struttura, entro il 31 marzo di ogni anno, l'aggiornamento dell'allegato 1, dichiarazione di assenza in capo rappresentante legale, amministratori, titolari di incarichi operativi direttivi a ciascun volontario operativo di condanne penali, lo è stato ingiudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Avendo l'associazione trasmesso una risposta non completa, abbiamo provveduto in data 6 aprile con nota protocollo al numero 82 310 a richiedere di integrare lo stesso in maniera esaustiva per il mantenimento del requisito dell'operatività. A seguito di una non ricezione della suddetta integrazione è stato effettuato dai funzionari del servizio un sopralluogo in data 23 giugno che ha evidenziato una volontà da parte del rappresentante legale di riorganizzare la propria associazione e pertanto si è provveduto a classificare l'associazione come non attiva e rivedibile dopo alcuni mesi previ adeguata istruttoria ma comunque non permettendogli di accedere ai fondi regionali riferiti all'annualità 2022. La sospensione dall'operatività non permette inoltre l'attivazione in eventi emergenziali o a rilevante impatto locale e l'accesso ai benefici richiamati in precedenza all'articolo 39 e all'articolo 40 del decreto legislativo numero 1 del 2018. Visti gli ultimi eventi citati nell'interrogazione di quali la struttura è venuta a conoscenza tramite i media nel caso di richiesta di riattivazione dell'ufficio insieme ai colleghi che gestiscono il registro unico nazionale delle associazioni del terzo settore farà naturalmente particolare attenzione nell'istruttoria e procederà anche in relazione agli esiti dei procedimenti dell'autorità giudiziaria. Grazie Assessore Morroni, prego Consigliere Bori per la replica. Ringrazio l'Assessore per i chiarimenti, come sapete il tema è all'attenzione anche del Consiglio Comune di Perugia, che è la zona in cui si sono verificati la maggior parte di queste ipotesi di reato. Apprendiamo purtroppo che risorse pubbliche, quindi mi sembra tra tutto quasi 25 mila euro, siano andate a questa realtà. Vedremo gli esiti delle indagini e del processo. Il mio invito che ribadirò in ogni sede è a costituirsi come ente pubblico, se ci sarà un processo, a costituirsi e a partecipare perché noi siamo parte lesa come istituzioni. La richiesta è anche di vigilare attentamente perché non può essere soltanto il ruolo di passacarte, ovvero si chiede da parte di un'associazione, da parte di un ente locale l'attivazione e si procede. Bisogna verificare attentamente quello che poi queste realtà fanno. Siccome le segnalazioni che ci stanno arrivando non sono solo su questa realtà ma anche su altre, riteniamo che sia degno di grande attenzione da parte della Giunta e della struttura tecnica. Per cui apprendiamo che risorse pubbliche sono state consegnate anche per il cambio di automezzi oltre che per i rimborsi. Sottolineiamo la volontà e la richiesta di costituirsi all'interno del processo qualora ci sia a carico di questa realtà e delle 17 persone indagate per usurpazione di funzione, falsità ideologica, truffa, aggravate, minacce, mi sembrerebbe il minimo, e a vigilare per il futuro perché temiamo che possa non essere un fenomeno isolato. Grazie.